Assolutamente non consideriamo inutile questo esercizio che stiamo facendo oggi, prima di tutto perché è doveroso informare anche quando le cose non sono ancora mature e sono in divenire. Peraltro vorrei anche ricordare che non c'è nessun imbarazzo da parte di chi vi parla nell'affermare in maniera chiara e inequivocabile che il giudizio che la giunta provinciale dà rispetto ai provvedimenti di qualsiasi governo sarà sempre indipendente dalla colorazione politica che il governo ha. Nel momento in cui fa quei provvedimenti. Lo sarà sempre e questo mi sento di dirlo con riferimento alla giunta provinciale di questa legislatura ma mi sento anche di affermarlo avendone fatto parte nella legislatura precedente anche della giunta provinciale della legislatura passata. Così è stato e così sarà. Lo è stato fin dai tempi in cui per la prima volta abbiamo avvertito e vorrei rivendicarlo con forza partendo da qui e non aspettando che gli eventi ci schiacciassero. Abbiamo avvertito la necessità di una modificazione dello statuto attraverso l'accordo di Milano che oggi vorrei ricordarlo ci permette comunque di poter mettere sul tavolo garanzie ulteriori. Quindi nella direzione di una salvaguardia e di un ampliamento della nostra autonomia. Questo è stato il paradigma di approccio della maggioranza di centrosinistra autonomista. Lo è stato quando c'erano governi di un colore, lo è stato e lo sarà quando ci sono governi di qualsiasi altro colore. Quindi assolutamente nessun tipo di imbarazzo. Certo, le sollecitazioni vanno raccolte e mi permetto di dire in relazione a quello che diceva il consigliere Fugatti che forse non siamo più davanti alla necessità di trovare delle vie di uscita. E forse lui stesso nell'usare questo termine può rendersi conto di che cosa intendo dire. È cambiato il mondo, cioè non possiamo più immaginare di chiamarci fuori. Non possiamo più immaginare di difendere l'autonomia come l'abbiamo difesa per tanti anni in un contesto di finanza pubblica comunque crescente. Poi questa crescita ci ha portato al dissesto evidentemente. Ma non possiamo più immaginare di difenderla in quel modo e quindi forse più che trovare una via di uscita stiamo cercando faticosamente ma con grande determinazione e chiarezza di idee di trovare una via di entrata più che una via di uscita. E quindi di provare a essere a nostro modo e umilmente ma anche consapevoli di quanto di buono possiamo portare, provare a essere parte di un processo difficile e faticoso che comunque lo Stato italiano sta cercando di imboccare, che sarà molto lungo e molto difficile, che personalmente mi auguro che giunga a una definizione anche veloce perché tutti sappiamo bene come il bicameralismo perfetto evidentemente abbia prodotto e continua a produrre dei danni fortissimi ma dall'altra sappiamo altrettanto bene che se così dovrà essere questo cambiamento non potrà essere fatto evidentemente senza una Camera delle Autonomie che sia veramente un contrapeso rispetto a una riforma costituzionale che a volte ha dei caratteri di centralismo molto forti e molto marcati. Quindi più che una via di uscita forse si tratta di garantirci delle possibilità di entrata. Naturalmente lo faremo anche cercando di valorizzare quel dato politico che comunque esiste, che è presente nella nostra maggioranza e quindi di valorizzare anche un legame di carattere politico e programmatico molto forte con il Partito Democratico del Trentino che in virtù della sua appartenenza nazionale evidentemente ci può garantire un dialogo che speriamo possa essere il più produttivo possibile. Vorrei anche ricordare che in quest'Aula più volte abbiamo cercato di dare informazioni, io sono stato chiamato a farlo più volte nel corso di questi mesi non mi pare che sia mai mancato il dibattito, non mi pare nemmeno che in occasione delle valutazioni programmatiche sia per quanto riguarda la Giunta Provinciale che per quanto riguarda la Giunta Regionale non siano state delineate in maniera molto chiara le linee di approccio rispetto al tema dell'autonomia. Io posso immaginare, Consigliere Borga, che le nostre idee, la nostra matrice culturale di fondo possa essere anche diversa dalla sua, io non voglio mica discutere questo, ma non mi sento di poter avvalare il fatto che non ci siano idee chiare rispetto a questo. Rispetto al Terzo Statuto, l'ho detto personalmente anche in quest'Aula in maniera molto chiara, è evidente che dobbiamo cercare di immaginare un nuovo assetto dell'autonomia ma se lo dobbiamo affrontare dal punto di vista complessivo è assolutamente evidente che il momento storico ci consiglia una grandissima prudenza, in questo sono d'accordo col Consigliere Fugatti in quanto potremmo addirittura peggiorare la situazione. Però è altrettanto evidente che se noi arriviamo a una definizione di trattativa su un nuovo meccanismo di assetto finanziario tra Stato e autonomie speciali è assolutamente evidente, la palissiano direi, che questo accordo avrà bisogno di una garanzia di tipo statutario e quindi di un'ulteriore modifica dello statuto. È quella la modifica dello statuto a cui stiamo pensando in questo momento perché non basterà suggellare un accordo ma dovremo tradurre il principio che questo accordo e quindi il metodo pattizio sia il metodo costante di rapporto fra Stato e province autonome, sottolineo fra Stato e province autonome che significa indipendentemente dal colore del governo. Per quanto riguarda il tema della classe dirigente e del suo valore, certamente non sta a noi autogiudicarci. Vorrei ricordare però che le classi dirigenti del passato hanno appunto operato, anche per quanto riguarda la difesa dell'autonomia, in un contesto molto diverso, vorrei dire totalmente diverso, vorrei dire un altro pianeta rispetto ad oggi in cui il dato crescente di finanza pubblica che poi ci ha portato al dissesto di fatto ha mascherato per certi versi la capacità di guardare oltre rispetto al recinto nostro della nostra autonomia. Vedo che annuisce, ma lei sa bene come io mi riferisca alle classi dirigenti che hanno preceduto questo quindicennio nel quale, lo voglio rivendicare con forza anche da un punto di vista politico, nel quale invece è stata invocata una via totalmente diversa, cioè la via della responsabilità, la via della partecipazione al risanamento della finanza pubblica, ma in una logica di pari dignità con lo Stato. E l'Accordo di Milano significa esattamente tutto questo. Quindi quella via invocata con l'Accordo di Milano oggi noi la dobbiamo percorrere con ancora più velocità per garantirci appunto, e chiudo, non una via di uscita, ma una possibilità di entrata e di protagonismo, pur nelle nostre piccole dimensioni, all'interno di un processo che speriamo sia virtuoso e non sia invece di arretramento rispetto alla logica del federalismo, che comunque in qualche maniera era stata imboccata, ma che è stata poi, ahimè, gestita male, molto male da governi che si sono succeduti nel tempo. Grazie Presidente Rossi. Passiamo allora al numero due. Sul...